Siccome Nonna Maria ha tantissimi libri della chiesa, ho chiamato una persona a fare il firmacopie perché ci tenevo veramente, guardate. Ma che c'è il firmacopie? Ma che c'è il firmacopie? Ma devo fermarmi. È il firmacopie? Anche questo. Non fai mai! Non fai mai 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 mai, ma sono fai mai mai! Ma sono Fai Gesù. No, Gesù è questo, è l'amore mio! Vedi, sta a fare le filette. Anche questo. non rubi, su me lo spettano vai via eiii vai via vai via il padre è che su sulla terra? ogni dont 아go Che vuoi? Non sbaglio, non sbaglio! Papà! 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 E' Gesù sulla terra questo eh! Scegli per i coglioni! Tu e con la pezzetta? Siete dentro!